Grazie, no, tanto grazie per la relazione compreso l'attenno al codice degli appalti che mi è entrato purtroppo in vigore dopo che la scelta dell'area della Vellerina era stata fatta, ma è uno spunto assolutamente fondamentale per il prosieguo, diciamo, delle attività sia mie che, insomma, vostre che sarete più bravi di me a metterlo a terra. No, allora, sulla questione dell'area Thyssen, come credo la maggior parte di voi già saprà, io ho portato avanti una mozione in consiglio comunale che peraltro è stata condivisa dalla maggioranza in cui a fronte di una situazione che quando io sono entrata in comune, io non ho esperienze pregresse, diciamo, di amministrazione civica e quando c'è stata la questione della scelta della Vellerina che è subito emersa in maniera abbastanza, diciamo, dirompente anche per noi consiglieri perché non è che ci sia stato un grande margine di lavoro. Quella scelta è stata presentata a ottobre dell'anno scorso come scelta fatta e poi dopo un po' di trafile varie è stata riconfermata a marzo dell'anno scorso come scelta fatta fondamentalmente. Noi come consiglio comunale abbiamo approvato un atto che poi è confluito nel protocollo che c'è stato tra comune e regione dove una serie di elementi sono stati specificati in maniera, noi crediamo, a garanzia di quello che potrà essere il futuro percorso di quell'opera che insomma c'è da capire quando e come vedrà la luce, però evidentemente è stata un'attività che ha portato a inserire elementi e non a rimettere da capo in discussione la scelta, ma di questo abbiamo già parlato in tanti altri contesti e non voglio rubare spazio rispetto a questa vicenda dell'ospedale. Però ovviamente quando all'inizio di quella vicenda è immerse la questione il pensiero perché non lo stiamo facendo alla Thyssen lo abbiamo avuto tutti e tutti e l'ho avuto ovviamente anche io che sono andata a chiedere perché non lo facciamo alla Thyssen e come vi ho già detto in altre occasioni la risposta è stata no è troppo complicato, l'area è privata, quindi qua servivano aree pubbliche perché quello era uno dei requisiti richiesti dalla regione, è privata, poi la bonifica è complicatissima, è lunghissima, è costosissima, quanto è lunga, quanto costa, nessuno, nessuno era in grado di darmi un feedback, al che io ho continuato a cercare informazioni, poi mi sono imbattuta in quella determina che il professor citava poco fa e ho detto va bene siamo al pian dei babi per davvero e quindi mi sono messa io diciamo a preparare quella mozione anche andando a vedere qual è la situazione di acciai speciali termiche, una società solvibile, io sapete io di lavoro prima di fare questa cosa facevo l'avvocato fallimentarista, quindi diciamo che a me certe dinamiche anche di quanto poi le bonifiche diventano un aggravio pubblico e di quanto i tempi pubblici, cosa che sull'esproprio mi convince fino a un certo punto ma poi ci torno, non necessariamente siano la via per avere, perché io penso a vicende come quella di Cogoleto o comunque una serie di altri ex-sin in Italia dove oggettivamente si passa al pubblico ma poi le bonifiche non vengono fatte per decenni. Quindi invece acciai speciali termini ervedi è in grande forma, sta bene, ha un sacco di soldi, fa un sacco di profitti e quindi a maggior ragione bisognerebbe evitare che diciamo questa situazione favorevole si sfugga. Quindi abbiamo fatto questa mozione, mozione con la quale chiedevamo sì un'accelerata sulle bonifiche ma anche un processo pubblico sul processo di bonifica proprio per mettere un po' di pressione anche a questa conferenza di servizi che aveva lavorato con una certa calma grazie al lavoro di Marcello Badiali che insomma ha una competenza sul tema anche proprio dei rischi ambientali che io non ho e che è stato fondamentale nella costruzione di questo percorso e a proposito io ho richiesto al presidente della commissione sesta di convocare l'intesa con Marcello Badiali un aggiornamento sul punto a cui siamo e confido che nel mese di novembre questa commissione verrà convocata perché il tema non era solo bonificate ma è anche raccontateci man mano come si evolve la questione. Cos'è successo in questi mesi? È successo che Arvedi ha depositato un'ipotesi di messa in sicurezza operativa nel mese di giugno che è stata ritenuta dalla conferenza dei servizi non adeguata quindi è stato dato un termine che però non so quale sia per ignoranza non ho questo dato non ce l'ho presente quindi devono riaggiornare questo piano di messa in sicurezza operativa io confido che la commissione che da qui alle prossime settimane potrà essere convocata diventi un momento di sviluppo pubblico di questa attività ovviamente questo l'ho già detto nel precedente incontro i tecnici del comune sono molto rigorosi sul fatto che la bonifica vera e propria poi dipenderà dall'utilizzo dell'area quindi c'è un potere diciamo proprio così potestà in capo al proprietario dell'area abbastanza preoccupante rispetto a che cosa farne cosa non farne ma ricordo che in quella mozione noi abbiamo chiesto anche un'altra cosa e cioè che una porzione almeno una porzione di quella che è la ex area Tissen diventi parco diventi parco io per come ho seguito la vicenda sull'ospedale io non credo che oggi si sia nella condizione l'ho già detto anche a chi ha proposto quella deliberazione quindi non è una novità di far di mettere lì l'ospedale anche solo per il tema dell'esondabilità perché quell'area lì rientra in area esondabile più dell'altra che lo è comunque ma meno quindi c'è un rischio di incidenza comunque questo è un tema però in ogni caso io non credo che oggi il tema sia farlo diventare servizio sanitario anche perché la destinazione ai servizi sanitari vediamo la vicenda del Maria Delaide crea anche dei margini di profitto per privati che non necessariamente c'è ovviamente uno lo propone per farci l'ospedale però poi sappiamo che direzione sta prendendo la sanità mentre sul tema parco quella mozione conteneva l'impegno alla giunta di farci un'area verde è una mozione che a tutti gli effetti è passata poi al valore di tutti gli altri piani non rispettati o potenzialmente vero però diciamo che il consiglio comunale si è già espresso in questa direzione peraltro con il benestare almeno dell'assessore all'urbanistica che ha confermato che in quell'area lì sarebbe opportuna una destinazione a verde di un pezzo di quel complesso che ricordiamo ma voi lo sapete meglio di me in parte è Arvedi e in parte più ampia è ex bonafus poi cassa depositi e prestiti esegue una sua traiettoria in parte differente quindi questo è lo stato lo stato delle cose io credo che la vostra proposta di deliberazione che poi si andrà a discutere insomma sappiamo che i tempi sono lenti maria angela mia mi avete giustamente segnalato la cosa io l'ho segnalata a mia volta credo che insomma si debba arrivare a una accelerata su quello sapendo che il processo di variante in sé è un processo complesso e lungo cioè nel senso non è la delibera del consiglio comunale prevede tutta una serie di altri atti quindi ma anche questo voi lo sapete e non c'è bisogno che io ve lo ridica però insomma avremo modo di confrontarci sulla sulla questione sapendo che per esempio una proposta di deliberazione popolare come fu quella del Prato Parella entrò in consiglio comunale in un modo ne uscì in un modo diverso ma raggiungendo l'obiettivo e quindi secondo me credo che insomma a livello di anche dialogo tra le parti sapendo che almeno sulla questione del verde avete il consiglio comunale dalla vostra parte questo è importante che ce l'abbiate presente si possa fare un ragionamento tale per cui si raggiunge lo scopo magari con percorsi diversi da quelli che oggi si possono dalla delibera così come proposta però questo è una mia ipotesi che vedremo man mano che si andrà avanti con il lavoro una domanda faccio invece al professore già che ho l'occasione di farla l'esproprio ovviamente prevede un indennizzo che ha valori minori rispetto a una vendita ma comunque è previsto sulle casse della città la bonifica rimarrebbe comunque in capo al soggetto espropriato ok ultimo punto ovviamente l'ho detto in parte prima è ovvio che oggi l'esproprio l'ordinanza del sindaco e il procedere in danno sulla carta è la cosa giusta da fare è altrettanto ahimè ovvio e noto che il comune di torino i soldi per procedere con quella bonifica non li ha per cui il sindaco può farla l'ordinanza possiamo chiedergliela l'ordinanza sapendo però che oggi nel bilancio cittadino le risorse straordinarie per fare quel tipo di operazione non ci sono quindi io credo che l'operazione di recupero dell'area tissen e anche di risarcimento alla città perché oggettivamente insomma l'abbiamo ricordato in apertura quello rimane il peggiore incidente sul lavoro con una vicenda giudiziaria peraltro abbastanza che non è stata giustizia ecco c'è nel senso evidentemente quindi ha un valore ulteriore alla città è soltanto un vuoto urbano e molto di più però ecco io credo che il processo possa essere fatto io credo che questa che questa amministrazione comunque almeno in delle sue componenti abbia dimostrato l'interesse a portarlo avanti l'esproprio suona molto bene ho paura che l'esproprio oggi in mano al comune di torino per le condizioni economiche finanziarie del comune di torino oggettivamente non 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 porterebbe raggiungere il risultato e nemmeno il fatto di procedere in danno perché oggettivamente se poi il comune non ha le risorse da destinarci il rischio è quello di continuare a girare un po' in l'idea della della vicenda temo eh che oggettivamente oggi sia sul pressing su chi deve bonificarla e i soldi per farlo ce l'ha eh quell'area che si deve insistere e molto e farlo all'interno di un contesto urbanistico eh che eh quantomeno recupero a verde eh anche in ottica di compensazione se mai quell'ospedale si farà perché vedremo come come procedono diciamo poi siamo anche in fase elettorale eccetera eccetera vedremo però secondo me eh e sarà opportuno c'è opportuno che questo sia il piano di lavoro principale perché sugli altri io vedo dei rischi poi di ehm inaffidabilità purtroppo economico finanziaria dell'amministrazione locale che rischierebbero nel caso specifico di essere un grosso limite al al raggiungimento dell'obiettivo vi ringrazio io purtroppo verso le sette vi dovrò lasciare ma insomma vi ascolto volentieri grazie grazie